Ciao Simona, siamo tornati! Ciao! Allora com'è andata nelle profondità dell'oceano? Dice che è andato tutto bene e che ha scoperto un segreto per dimagrire. Davvero? Dice che potrei diventare una sirena, ma qui sono più verso la balenottera. Ma no dai, vediamo quali sono i segreti per dimagrire con successo. Ciao amici, come state? Vi ho già detto, vero, che ho letto che la maggior parte delle persone non è contenta del suo corpo. Credo di sì, di avervelo già detto. Non serve leggerlo, basta ascoltare la vicina d'ombrellone. Sì, infatti, ma in tanti mi avete scritto che, seguendo i miei video e quello che mangio io e i consigli sull'alimentazione sana, avete perso peso e centimetri. Ottimo lavoro, bravi! Ma uffa però, io non ho perso neanche un etto. Ma non solo tu, anche molte altre persone non riescono a dimagrire. E comunque, per tutti, la vera sfida è mantenere la forma nel tempo. Oggi ho preparato per tutti voi, dimagriti e non dimagriti, una serie di trucchetti e segreti facili da seguire e super efficaci. Sono quattro falsi miti sul dimagrimento, che crediamo giusti, ma che ci fanno riprendere peso finita la dieta. E in più tre segreti per riuscire a dimagrire con successo. Se vi piace questa idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi ho preparato alcune delle mie slide, le uso anche durante i miei corsi. Vediamole insieme! Vediamolo insieme! Vediamo per piacere ONQA oh mannaggia io questi li ho fatti tutti ora sapete cosa non fare per dimagrire naturalmente ricordate amici per dimagrire ci vuole sinergia tra tutto cibo esercizio fisico libertà dallo stress e giusto stile di vita ma si può fare e ancora di più con i miei tre consigli per impostare la giusta alimentazione dimagrante senza fallire no aspetta un attimo ma è come creo questa sinergia che dicevi prima ma la trovi nei miei video naturalmente ho parlato di tutti questi argomenti ed ecco l'occasione giusta per iscriversi al canale basta un click così è facile e attivate la campanella delle notifiche bene e ora i tre consigli per non fallire vanno bene a tutti i tipi di dieta e tutti i regimi alimentari ecco sono certa che queste schede vi saranno utili condividete subito questo video con quante più persone conoscete e noi ci vediamo presto qui sul canale alla prossima naturalmente ciao ciao